Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità, domani le celebrazioni per la festa della Repubblica nell'area tra Piazza Venezia e i fori imperiali. Dalle prime ore del mattino e sino alle 14 circa divieti di sosta e limitazioni alla circolazione. Sempre domani mattina prevista la chiusura della fermata metro di Colosseo e modifiche per 33 linee tra bus e tram. Ancora domani ma nel pomeriggio le celebrazioni del Corpus Domini alla presenza di Papa Francesco nelle basiliche di San Giovanni e Santa Maria Maggiore. Prevista anche una processione su via Merulana, deviazioni per 16 linee tra bus e tram tra le 17.30 e le 20.